Musica Si è appena concluso la seconda edizione del torneo Alba dei Campioni, che evento è stato quest'anno? Un evento straordinario che ha avuto una grande crescita, lo dimostrano i numeri, siamo già partiti da quattro squadre, quest'anno sei, il pubblico ha reagito molto bene, noi sappiamo tutti che è un evento straordinario con delle squadre Alba dei Campioni, non è solo perché è partito dalla città di Alba, ma perché è il futuro di questi campioni che sono all'Alba, però sappiamo l'importanza della solidarietà in cui è legato il torneo, per la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica e per la ricerca sul cancro, e penso che quest'anno sia gli sponsor, tutti gli addetti ai lavori, i volontari, c'è stato un lavoro di equip con la fondazione Viale Mauro che è stato straordinario e secondo me stiamo cominciando a mettere veramente delle basi solide per un grande torneo del futuro.